29 maggio 2024, con un post sui social, con un video molto ben confezionato sui suoi social, ma dopo averlo comunque preannunciato, Leonardo Bonucci dà l'addio al calcio. Compiuti da poco il primo maggio, 37 anni, da calciatore del Fenerbahce trasferitosi nel mercato invernale dopo la breve parentesi in Bundesliga abbastanza infelice nell'Union Berlino, Leonardo Bonucci, soprattutto ex Juventus, decide di dire addio al calcio preparandosi ad una carriera da avvicinare. Rispetto alla quale aveva già fatto spoiler molto tempo fa, è tempo molto tempo infatti che Bonucci sostiene, dichiara di voler fare l'allenatore e probabilmente ha anche le caratteristiche pragmatiche, psicologiche e di approccio utili per percorrere questa strada. Naturalmente non possiamo già sapere con quali risultati e quale livello di bravura e competenze. Possiamo però immaginare che Bonucci abbia il sogno di allenare anche la Juventus in futuro, ma è un sogno da lasciare ancora un po' nel cassetto. La strada è lunga e la Juventus in questo momento di strada ne ha presa un'altra. Bello il messaggio anche umano che viene fuori dal video con tante immagini significative di quella che è stata la carriera di Bonucci. Tanti significati, tanti concetti che sono molto emotivi e quindi sicuramente una produzione social molto ben confezionata, molto efficace. Ma andiamo anche a ricordare un po' i passaggi chiave della carriera di Leonardo Bonucci. Leonardo Bonucci che è stato molto spesso criticato, tanto odiato e mal tollerato da tifoseria di tutta Italia. Quindi è il classico calciatore antipatico che forse non ha fatto nulla per evitare di esserlo. Però chi ne capisce di calcio come Pep Guardiola ha parlato benissimo di lui nel suo periodo d'oro e l'avrebbe veramente voluto con sé. E ci sono tante squadre che avrebbero voluto Bonucci, parliamo di squadre top in Europa, e lui ha fatto scelte diverse e ha preferito non utilizzare quella porta girevole e proseguire per un'altra strada. Ma resta il fatto che la stima nei confronti di Bonucci, le manifestazioni quindi di stima e il riconoscimento della sua bravura sono provenute veramente da tante parti abbastanza attendibili. Ovviamente Bonucci ha anche avuto tanti limiti nel suo modo di giocare, soprattutto non rapido, non veloce, ma sicuramente bravissimo nell'impostazione, soprattutto nell'impostazione lunga, nei lanci lunghi, la visione di gioco. Comunque un difensore centrale molto moderno che, secondo una certa narrazione, ha beneficiato della bravura di fianco a lui di Barzagli e di Chiellini. E questo in parte è vero, ma se Bonucci non fosse stato anche molto forte di suo non avrebbe fatto la carriera che ha fatto. E una carriera senza mai una condiscendenza nei confronti degli allenatori. Certo, forse grande empatia con Antonio Conte nei primi anni alla Juventus, ma poi Bonucci ha dovuto anche lavorare con allenatori con i quali si è preso pochissimo. Per esempio Massimiliano Allegri. E ripercorrendo soprattutto l'ultimo tratto della carriera di Bonucci bisogna dire proprio questo. Bonucci, sarebbe stato giusto tenerlo un ultimo anno alla Juventus, visto come sono andate le cose? Bonucci infatti ha lasciato la Juventus perché così gli è stato imposto. Ha ricevuto il ben servito, d'aggiunto lì, mandato come messaggero di Allegri proprio all'inizio della stagione 23-24. Bonucci aveva ancora un altro anno di contratto, sicuramente guadagnava anche molti soldi, quindi c'era anche la necessità di liberare un po' di costi a bilancio. Ma non è stato fatto per tutti questo, anzi poco prima della cacciata di Bonucci c'era stato il rinnovo automatico di Alexandro che guadagnava e ha guadagnato praticamente gli stessi soldi perché è fatto giocare troppo oltre il limite da Allegri la stagione precedente. Lo stesso Allegri che proprio Bonucci l'aveva fatto giocare molto meno la stagione precedente in quanto a causa probabilmente di litigi o comunque di sapori che forse hanno radici profonde. Ricordiamo infatti tutti l'episodio contro il Palermo, poi lo sgabbello di Oporto e anche la fuga dopo la finale di Cardiff andando al Milan pentendosene già nel corso della stagione. Un trasferimento che tra l'altro ha rappresentato anche un trasferimento tra i più costosi nella storia del Milan e portò anche De Sciglio in bianconero. Ma Bonucci in questa stagione tra campionato turco e campionato tedesco quindi tra Union Berlino e Fenerbace ha disputato 1143 minuti in campo in 23 presenze. Andando a vedere quali sono i giocatori che hanno disputato meno minuti in campo per la Juventus in questa stagione troviamo Ildiz, Milik e Iling che essendo giocatori d'attacco non li prendiamo in considerazione così come non prendiamo in considerazione Ken che è attaccante, Perin che è portiere, Fagioli che è stato squalificato Alcarazza e Nicolussi Caviglia che sono pure centrocampisti e Pogba che anche lui è stato squalificato così come pure Nonge che ha giocato però pochissimo, Pinsoglio terzo portiere, Jalò che è entrato solo all'ultima partita e poi Hausen, Sekulov e Cerri che pure hanno disputato qualche manciata di minuti ma soprattutto andiamo a sottolineare come due giocatori in particolare difensori della Juventus in questa stagione hanno disputato meno minuti di Bonucci nella sua stagione 23-24 ovvero Alexandro 807 minuti e De Ciglio solo 45 minuti reduce da un crociato da cui però ha recuperato tardissimo e malissimo e tra l'altro anche la Juventus ha salutato degnamente Bonucci sui social ma allora viene da chiedersi meritava un finale diverso? meritava soprattutto di terminare la carriera alla Juventus dando il suo contributo in quest'ultima stagione per venire magari anche salutato degnamente dall'Allian Stadium come è stato per Alexandro che si è deciso invece di tenere pur costando praticamente la stessa cifra quindi da un punto di vista di integrità fisica Bonucci avrebbe assolutamente giocato potuto giocare con pieno diritto nella Juventus 23-24 rispettando la Juventus quello che era il contratto di Bonucci e ricordiamo che la separazione è stata anche burrascosa salvo poi rientrare tutto perché c'era stata addirittura la possibilità di una causa la possibilità di una situazione giudiziale per definire bene la risoluzione per definire bene questa separazione dal punto di vista contrattuale poi indubbiamente Bonucci non avrà brillato e non ha fatto una stagione entusiasmante dovendo anche trasferirsi dall'Unione Berlino perché voleva fare la Champions le cose non sono andate bene, ha giocato anche meno di quello che voleva però sta di fatto che pur con tutte queste difficoltà ha potuto fare una stagione che è stata ancora una stagione sostanzialmente da titolare stagione chiusa senza trofei, è andato vicinissimo all'ultima partita a vincere il campionato turco suo però il rigore decisivo sbagliato in Conference League con il Fenerbahce proprio contro l'Olimpiakos che poi è arrivato a vincere la finale contro la Fiorentina ma chiaramente se ti metti in gioco puoi anche perdere solo chi non si mette in gioco non perde mai e quindi perde a prescindere 431 presenze in Serie A, 87 in Champions League, 58 in Serie B, 47 in Coppa Italia 23 in Europa League, 16 in campionato primavera e poi appunto altre competizioni tra cui il campionato turco, 8 presenze, quello tedesco, 7 presenze la Supercoppa Italiana, 7 presenze, qualificazione Europa League, 6 presenze Via Reggio Cup, 4 presenze, la Coppa tedesca, 3 presenze, Conference League, 2 presenze e una presenza anche in Supercoppa primavera, 0 presenze ma panchina in Coppa tedesca 700 presenze ufficiali totali secondo Transfermarkt con 48 gole e 13 assist per un difensore centrale ovviamente la squadra con cui ha disputato più presenze è la Juventus 5, 102, 37 gol e 10 assist a seguire il Milan, 51 presenze, poi il Treviso, il Bari, l'Inter primavera, il Pisa, il Fenerbahce, l'Union Berlino e anche l'Inter prima squadra con cui riuscì a disputare a inizio carriera solo 4 partite a cui bisogna aggiungere 121 presenze con la nazionale italiana e 8 gol e infatti con la nazionale italiana un europeo, parlando di Palmares ma anche una volta giocatore dell'anno nel 2016 9 scudetti di cui anche uno con l'Inter stagione 2005-2006 formalmente quello di Calciopoli, 5 Coppe Italia tra cui anche quella con l'Inter stagione 2005-2006 5 Supercoppe italiane tutte con la Juventus, appunto una primavera con l'Inter stagione 2006-2007 e anche la Coppa Primavera 2005-2006 sempre con l'Inter primavera quindi ha vinto tutto in Italia, ha un unico trofeo internazionale con la nazionale italiana tra l'altro da protagonista anche in finale Bonucci antipatico, Bonucci contestato, Bonucci discusso, Bonucci semplicemente Bonucci Bonucci, Bonucci!